sei stanco che il dolore al ginocchio ti impedisca di goderti pienamente la vita non sei l'unico il fastidio al ginocchio è un problema comune ma esistono rimedi naturali che possono aiutare a ripristinare la salute della cartilagine e ad alleviare il dolore se soffri di questo problema questo succo di cannella ananas e arancia è un rimedio naturale molto efficace per trattare e alleviare il dolore alle ginocchia e alle articolazioni la vitamina c contenuta nell'ananas e nell'arancia è indispensabile per le ossa l'ananas contiene anche notevoli quantità di bromelina un anti infiammatorio che aiuta a combattere i dolori articolari la cannella aiuta il sangue a scorrere in modo più efficiente nel corpo e il succo d'arancia rinforza i legamenti e i tendini per preparare questa bevanda ti servono due tazze di ananas a cubetti uno tazza di fiocchi d'avena due tazze di acqua uno bicchiere di succo d'arancia uno bastoncino di cannella miele grezzo naturale aggiungi l'acqua e l'avena in una pentola e lasciali cuocere per qualche minuto al termine della cottura lascia raffreddare l'avena aggiungi la farina d'avena il succo d'arancia la cannella l'ananas e il miele in un frullatore mescola il tutto e aggiungi un po' d'acqua se vuoi che il succo sia più fluido per ottenere risultati migliori è consigliabile bere il succo ogni giorno dopo cinque giorni dovresti osservare un miglioramento totale dei tuoi dolori alle ginocchia e alle articolazioni allora ti è piaciuta questa ricetta